Il giorno rosso e, ahimè, siamo ancora a casa. Quindi, giorno rosso, siamo a casa, numero 22, ma di che mese? Viaggio nell'insegnamento a distanza nelle 17 scuole dell'infanzia comunale dai 3 ai 6 anni di età di Vicenza, dove le maestre si sono reinventate diventando videomaker e inviando le famiglie dei video 10 minuti per mantenere il legame con i bimbi. Abbiamo organizzato contattando in precedenza le famiglie, cercando di capire quali erano le loro esigenze, quali erano le loro necessità, per cercare appunto di entrare all'interno delle famiglie con tatto, con molto tatto. E' questo il termine che ci piace utilizzare, entrare in punta di piedi e andare incontro veramente a quello di cui loro hanno bisogno. Con tatto, inteso sia come delicatezza, adeguandosi ai tempi e ai modi delle famiglie già stressate dalla pandemia, ma anche inteso come uno dei 5 sensi con il tatto, perché i video che vengono inviati sono dei veri e propri tutorial. Possiamo definirli dei tutorial nel senso che un po' spiegano le modalità di realizzazione di alcune attività. Può essere l'attività grafica, piuttosto che un'attività di laboratorio logico-matematico, ma più semplicemente la canzone in inglese che poi trova un rimando in un gioco motorio. Ma attenzione, non chiamatela DAD, didattica a distanza, ma LEAD. Non si può parlare di didattica a distanza, ma che si parla di LEAD, proprio di legami educativi. Si tratta di dare certezza ai bambini e di sostenerlo nel rapporto affettivo-educativo che hanno con le loro insegnanti.